Ma fare innovazione didattica vuol dire semplicemente utilizzare nuove tecnologie in qualche modo nei nostri percorsi didattici? Probabilmente no. Che cosa vuol dire allora? In questo percorso vi proponiamo l'idea che fare innovazione didattica significhi porsi il problema di passare da una pratica tradizionale della didattica basata sostanzialmente su un approccio di tipo frontale e trasmissivo da parte del docente ad una, invece, nella quale i processi di apprendimento centrati sullo studente che ne stimolino le dimensioni attive, creative e collaborative siano elementi fondanti dell'esperienza di insegnamento-apprendimento. Creare delle dinamiche d'aula attive significa dare l'opportunità ai nostri studenti, nel momento in cui stanno raggiungendo i risultati d'apprendimento a tesi disciplinari che noi stiamo perseguendo, anche di raggiungere delle competenze che sono veramente definite come competenze chiave per il millennio nel quale ci troviamo, le famose 4 C. Collaborazione, creatività, comunicazione e pensiero critico. Si tratta di competenze particolarmente adatte nel contesto caratterizzato da una rapida evoluzione, come quello nel quale ci troviamo, perché sono competenze che permettono di mettere in gioco conoscenze, abilità e competenze disciplinari nel risolvere problemi che magari non si sono mai visti prima o nel trovare soluzioni che non sono la semplice replica di soluzioni già applicate in passato. Questo è particolarmente rilevante in un momento in cui i problemi di fronte ai quali ci troviamo sono davvero problemi mai visti prima. Parlare di innovazione didattica significa anche parlare di un processo, di un processo che inizia con la definizione di obiettivi, perché non si fa innovazione per fare innovazione, la si fa per raggiungere degli obiettivi e questi obiettivi potrebbero essere collegati al miglioramento dei risultati d'apprendimento, per cui l'obiettivo di andare a raggiungere una propria azione più profonda e più durevole rispetto ai risultati d'apprendimento definiti disciplinarmente, oppure un ampliamento dei risultati d'apprendimento stessi nella direzione di competenze trasversali come quelle di collaborazione, creatività, comunicazione che abbiamo visto prima. L'altro filone di obiettivi stimolanti nella dimensione dell'innovazione didattica è quello del miglioramento dell'esperienza di apprendimento. Il fatto che andare in aula sia più motivante, più divertente, più coinvolgente per il docente prima di tutto e nello stesso tempo per gli studenti, può essere un obiettivo importante di un'operazione di innovazione didattica. Quindi, dicevamo, l'innovazione didattica come processo che parte da definizioni di obiettivi. Rispetto a questi obiettivi interverrà poi un momento di progettazione dell'esperienza di innovazione didattica nel suo complesso, la sua messa in campo e, a quel punto, momento fondamentale, quello del monitoraggio. Andiamo ad osservare se effettivamente quegli obiettivi che ci eravamo posti di miglioramento dei risultati d'apprendimento, di loro ampliamento, piuttosto che di miglioramento dell'esperienza didattica, sono stati raggiunti o meno. e, grazie agli input che otterremo da questo monitoraggio, andremo a riprogettare e rimettere a punto l'esperienza di apprendimento. L'ultimo tassello che andiamo ad aggiungere per definire il nostro concetto di innovazione didattica è quello della sua trasferibilità. Parliamo dunque di innovazione didattica quando parliamo di un processo trasformativo dell'esperienza di insegnamento-apprendimento che sia valorizzabile nella più ampia comunità didattica, che quindi non abbia delle caratteristiche legate a qualcosa di estremamente specifico in termini di caratteristiche del docente, risorse disponibili, contesto specifico, che non ne permettano poi la replicabilità in altri contesti. Abbiamo quindi incominciato a costruire il quadro dentro al quale ci muoviamo in questo MOOC quando parliamo di innovazione didattica. Quando parliamo di innovazione didattica parliamo di un processo che parte dall'individuazione di obiettivi che possono avere come oggetto o il miglioramento o l'ampliamento dei risultati di apprendimento attesi oppure il miglioramento proprio dell'esperienza didattica per gli studenti e per i docenti. Questi obiettivi devono portare alla progettazione di un'esperienza di insegnamento-apprendimento che deve essere poi costantemente monitorata per verificare se gli obiettivi vengono raggiunti o meno e per ottenere input per una rimessa a punto del processo di progettazione. L'insieme del processo deve avere caratteristiche di replicabilità per parlare effettivamente di innovazione didattica, quindi non può trattarsi in un contesto eccezionale, ma deve avere caratteristiche tali da essere valorizzabile nella più ampia comunità didattica. Sottolineiamo bene questo tema del progetto perché il progetto dell'innovazione didattica sarà la prospettiva che vi proporremo lungo tutto il percorso di questo MOOC, cioè l'idea che il docente diventi l'attore principale della progettazione dell'esperienza di insegnamento-apprendimento rispetto a nuovi obiettivi. Ed è proprio qui che faremo del nostro meglio per mettere a disposizione dell'innovazione didattica la cultura del progetto.